Avevo pensato proprio di raccontarvi come funzionava, siamo a Padova, c'è l'università, come funzionava l'Istituto di Dottrina dello Stato, che era diretto da Tony. È un istituto che nasce nel 67, attorno e si configura una serie di persone che entrano dentro un progetto di ricerca sulla programmazione nazionale finanziato dal CNR. Come lavoravamo? C'entro anch'io, c'è Luciano Ferrari Bravo, Guido Bianchini, Sandro Serafini, Sergio Bologna, insomma siamo in molti, la Maria Rosa Dallacosta, eccetera. Funzionava sotto la direzione di Tony come un lavoro collettivo, tanto per incominciare, cosa che chi frequenta l'università oggi ha un po' di difficoltà a ritrovare. Una ricerca continua, una verifica nel territorio di quello che stavamo ricercando, la programmazione economica, per esempio io mi occupavo di impresa pubblica, e con una passione collettiva che Tony ci iniettava per la scoperta e le nuove conoscenze delle pratiche del territorio. Non è che abitare nel Veneto significa conoscere come si strutturano i rapporti dentro le fabbriche, nel territorio, nei trasporti. Per noi diventava un modo per imparare a stare, a vivere direttamente nel luogo in cui incominciavamo a immaginare una conoscenza collettiva. Quindi in primo luogo un lavoro intellettuale comune, rapporti diretti con la realtà di fabbrica, per esempio. È incredibile come tutti noi in quegli anni abbiamo imparato come funziona un petrolchimico. Ce l'hanno insegnato gli operai, ma noi andavamo a imparare e Tony con noi. Una pratica di trasmissione delle conoscenze che andava al di là delle lezioni e seminari giornalieri. Noi frequentavamo l'istituto ogni giorno. Una cosa che adesso sembra stranissima. I professori erano lì ogni giorno. Avevamo un grandissimo tavolo e attorno a questo tavolo si rilanciavano le letture della notte precedente, le cose che avevamo imparato la mattina dando i volantini a Porto Marghera, le discussioni sulle cose che leggevamo nei giornali. Facevamo anche lezioni serali per gli studenti lavoratori, cosa che ha permesso per esempio a me, di conoscere tutta una realtà del Vicentino. Avevo una serie di operai e studenti che venivano a lezioni, che venivano dalle fabbriche del Vicentino. In questo progetto io quello che voglio raccontarvi è proprio la parte accademica, burocratica di quegli anni, che voi sicuramente non conoscete e che oggi francamente è molto diversa. Nel progetto di ricerca sulla pianificazione, in cui io sono stata assunta con una borsa di studio e anche altri con borse di studio, ma già a novembre ho vinto un concorso nazionale, una borsa biennale per giovani laureati. Toni come accademico, cattedratico, non fece mai nulla di specifico per farci fare carriera. Questo voglio dirlo perché a me è sembrato veramente un nuovo stile dei rapporti accademici, il meno baronale possibile, ma che ci dava una grande libertà. Noi non dipendevamo da Toni per la nostra sopravvivenza. Magari restavamo senza salario, ma non era questo il problema. Dovevamo noi costruire i nostri percorsi e in genere lo facevamo con delle lotte dentro il sindacato. Abbiamo vinto dentro il sindacato CGL, che era molto debole all'università all'epoca. Abbiamo vinto nelle assemblee e io assieme a molti altri precari abbiamo agito nelle famose lotte dei precari con cui, assieme a Fausto Schiavetto, ci siamo inventati la figura del ricercatore. Chi è ricercatore adesso lo sappia, ce lo siamo inventati noi questa figura. Andavamo a Roma, Cacciari ci faceva entrare in Parlamento e noi scrivevamo le cose che i boato dovevano dire poi nel Parlamento per quanto riguarda questa cosa. E abbiamo ottenuto questa figura dentro una riforma però che non ci apparteneva, insomma noi volevamo altre cose. Persino Luciano Ferrari, bravo sapete, ha partecipato alle lotte, lui erano i docenti subalterni loro per avere una stabilizzazione. Lui era professore incaricato, non è che Tony gli abbia aperto strade così, no, ha dovuto fare le lotte di docenti subalterni per avere la stabilizzazione. Quindi questo era il rapporto che avevamo con l'accademico Tony che era un rapporto libero. Di questo veramente sono fiera, io non dipendevo da lui per vivere, diciamo, per avere un posto. Però dipendevo da lui per l'ampiezza delle possibilità di conoscenza che dentro quest'istituto io ho avuto, noi tutti abbiamo avuto, in questo lavoro che facevamo in comune. Tanto per dirvi, Tony invitava in quel periodo tutti i protagonisti del processo in atto di programmazione per questa ricerca. È venuto l'ex ministro del lavoro Vincenzo Scotti, il sindacalista della CGL Bruno Trentin, sentivamo tutti. Pensate che quando ci fu la rivoluzione portoghese, la rivoluzione dei Garofani, in istituto noi abbiamo avuto Manuel Cabral a parlarcene. Capite che questo era l'ambiente dentro cui l'accademia, il cattivo maestro, ecco, apriva, anche a quelli che lavoravano dentro, come me, come noi tutti, insomma, apriva veramente le porte della conoscenza e della sollecitazione al pensiero. Diciamo che ci è andata bene. In quel periodo c'era poi anche questa anticipazione che dava dignità, per esempio, alle lotte studentesche, che non erano solo studenti che andavano poi a Marghera a dare i volantini, ma che, secondo poi anche una teoria elaborata molto bene da Guido Bianchini, per esempio, vedeva l'università come la nuova fabbrica, la fabbrica della nuova classe operaia, cosa che è diventata poi. Dico, in realtà, i poveri operai oggi sono i laureati, insomma, ecco, questa è la nuova classe operaia. Quindi andare in istituto, e qui concludo, sapete, perché questo è un ricordo, ma è anche un invito a pensare a come vi trovate voi adesso dentro questa università, che non solo non riconosce toni negri, ma che non è totalmente, che è totalmente incapace di avere metodi di lavoro e di conoscenza, che entrino nel territorio e arrivino a coagulare idee, conoscenze, capacità, totalmente dentro una trasmissione continua ai discenti e alla intera struttura sociale. Il nostro era un passaggio continuo, da dentro a fuori, da fuori dalle fabbriche, a dentro l'università. Andare in istituto, per me, non significava andare a insegnare, ma andare a imparare, a confrontare le mie idee con quelle degli altri, di altri ben più bravi di me, capire cosa c'era da studiare per colmare le mie grandi lacune. Tony non imponeva niente, ma il primo francamente compagno, non ti capisco, era bene rimettersi a studiare e tenere la bocca chiusa. Le cose sensate poi venivano fuori dal confronto.